Salve a tutti lettori e lettrici, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono sempre Federica e oggi voglio parlarvi della mia top 5 di metano. Prima di iniziare però, come sempre, vi chiedo di supportare il canale. Iscrivetevi se vi fa piacere, commentate, interagite, fatelo girare. Se lo guardate, fate uno screen e pubblicate una storia su Instagram taggandomi, così vi farete girare un po' tra i vostri contatti. E giù nell'info box vi lascio il link di tutti i miei profili Instagram, TikTok, Vinted, così che potete trovarmi anche su altri social. Allora, i primi sei mesi dell'anno ce li siamo lasciati alle spalle, quindi questo significa che è tempo di bilanci. A fine anno io stilo sempre una top 10 dei miei libri preferiti e quindi a giugno ci sta che io stili la top 5. Così vediamo se questi 5 libri, fra 6 mesi, ce li ritroviamo nella top 10. Vado random. Allora, primo libro che vi mostro e del quale vi ho parlato tantissimo perché è stata una vera e propria rivelazione, è questo qua. Lingua nativa di Suzette Aden-Haggin. L'ho letto a inizio anno, a gennaio se non sbaglio, e l'ho letto con il gruppo di lettura Stranimondi, che si propone di portare la fantascienza sui social. E Lingua nativa è un libro di fantascienza, anche se la fantascienza non è proprio la caratteristica predominante di questo libro, ma l'autrice utilizza la fantascienza per parlare d'altro, come spesso fanno gli autori di questo genere. Spesso vi parlo di Philip Dick, che è uno dei miei autori preferiti nel mondo e nell'universo, che è un autore di fantascienza, forse uno dei più autorevoli del secolo. E vi dico spesso che Philip Dick utilizza la fantascienza per parlare d'altro, e lo stesso fa l'autrice di Lingua nativa, che utilizza la fantascienza che non è predominante in questo mondo, perché cosa abbiamo di fantascienza all'interno di Lingua nativa? Abbiamo macchine volanti, ma vabbè non sono così astruse, abbiamo degli orologi computerizzati, ma vabbè ormai l'Apple Watch o il Fitbit sono computer al porto, quindi non sono cose così astruse, e abbiamo degli alieni che interagiscono con i protagonisti, protagonisti che sono dei traduttori. Quindi ecco, non vedo della fantascienza molto predominante all'interno di questo libro, quindi pure chi non ama molto la fantascienza, non conosce questo genere, si può avvicinare a Lingua nativa. L'autrice, la Elgin, vuole utilizzare la fantascienza per parlare di tematiche sociali legate alle donne e al linguaggio. Infatti nel mondo di Lingua nativa le donne, sin da bambine, sono del tutto sottomesse agli uomini della loro famiglia e vengono utilizzate solo per procreare e per lavorare fino allo sfinimento come traduttrici. Ma le donne con una sorta di ribellione silente appunto si ribellano a questo status quo inventando una lingua, il Ladan, che gli uomini non capiscono. È una lingua solo per le donne, che viene parlata solo dalle donne, inventata dalle donne, che agli uomini è proibita. Non viene spiegata e gli uomini non possono quindi avere potere sulle donne che fra di loro parlano questa lingua segreta. Quindi la Elgin ci parla di come la lingua è uno strumento potente per la ribellione e come chi manipola il linguaggio, chi crea il linguaggio, può essere più forte di chi utilizza la forza per sottomettere gli altri. Vado avanti, Pesco Random, secondo libro che vi mostro già ve l'ho mostrato in altri video e poi saremo salvi di Alessandra Carati che era in Dozzina Strega e che è arrivato anche in Settina Strega. Di cosa parla? Parla di una ragazzina che nel 92 con la famiglia scappa dalla Bosnia dove c'è la guerra e arriva in Italia. La protagonista arrivata in Italia si sentirà divisa tra due mondi. Quello della famiglia che tiene molto alle sue radici bosniache, che è stata strappata da queste radici bosniache è il mondo italiano nel quale la protagonista vuole inserirsi. Infatti poi dopo le scuole medie lei farà il classico, diventerà una dottoressa proprio per cercare di integrarsi sempre di più all'interno del tessuto sociale italiano ma sarà sempre come divisa e anche si sentirà in colpa nei confronti della sua famiglia che invece la vorrebbe più vicina alle sue radici. Allora, restiamo in tema politica che voglio mostrarvi questo libricino qui Rivoluzione di Jack London Io ce l'ho nell'edizione della libreria Dante Descartes con una nota introduttiva di Harry De Luca Mi è piaciuto molto perché, vabbè, sapete che io amo Jack London ma in questo caso, in questo piccolo libro, Jack London parla molto di politica ovviamente si chiama Rivoluzione e ci mostra il suo lato più socialista, più politico perché come vi ho detto in altri video precedenti Jack London non è solo uno scrittore ma è sempre stato molto impegnato a livello politico essendo lui un socialista convinto in questo caso, in rivoluzione che lui scrive nel 1909 accusa il capitalismo di aver perso una grande opportunità per quanto riguarda l'avanzamento della società Infatti Jack London dice che il capitalismo e i capitalisti hanno utilizzato le risorse della terra e degli uomini quindi il lavoro umano per mero accaparramento e non hanno utilizzato queste risorse per fare in modo che l'umanità progredisse Per il quarto libro che vi mostro oggi in questo video Restiamo in America e vi mostro Crepuscolo di William Gay che mi è piaciuto da morire ma già lo sapete perché ne ho parlato spesso in video precedenti Questo libro appartiene a un sottogenere della letteratura americana che è il sottogenere gotico suddista I libri che appartengono al genere gotico suddista sono tutti ambientati nel profondo sud degli Stati Uniti in questo caso siamo in Tennessee e in più hanno degli elementi macabri ma non nel senso classico del termine più che altro l'angoscia che il lettore prova nei confronti di questi libri deriva dai personaggi che non sono proprio campioni di moralità infatti in questo caso in Crepuscolo ci sono dei personaggi degradati infatti uno di questi personaggi è un impresario di pompe funebri che è anche un necrofilo si diverte a comporre in maniera macabra i corpi dei defunti che gli vengono affidati e anche una tendenza sessuale a stare insieme a questi corpi quindi diciamo non proprio un libro leggerissimo per quanto riguarda le tematiche ma un libro molto suggestivo dal quale io non riuscivo a staccarmi quindi se volete una lettura che vi farà palpitare sicuramente Crepuscolo è una di quelle ultimo libro che vi mostro nella top 5 di metà anno passiamo alla letteratura giapponese ma ritorniamo alla fantascienza perché parliamo di Clara e il sole di Ishiguro Clara e il sole è stato un caso editoriale io l'ho apprezzato molto con Strani Mondi il gruppo di lettura di fantascienza che sto portando avanti anche in questo caso Ishiguro utilizza la fantascienza per parlare d'altro infatti io mi chiedo sempre ma cosa leggono coloro che dicono che la fantascienza è un genere di serie B perché la fantascienza è un contenitore utilizza dei termini diversi rispetto ad altri generi ma parla di argomenti profondamente legati all'animo umano ad esempio Ishiguro in questo caso utilizza Clara che è un androide quindi non è un essere umano per parlare di fede, di speranza e anche di religiosità Ishiguro ci fa vedere come Clara che è un androide riesce ad avere più fede, più speranza rispetto agli umani e quindi domandiamoci cosa ci rende umani se non riusciamo più a sperare, se non riusciamo più ad avere fede se non riusciamo più a pregare in qualcosa di superiore, in qualcuno di superiore siamo veramente umani e quanto è una cosa questo androide che invece riesce a fare tutto ciò Philip Dick ne parla spesso nei suoi romanzi di questo argomento ovvero di quanto noi siamo umani e di quanto gli androidi sono cose ne parla molto Ted Chiang, ne parla molto Walter Davis e lo fa anche Ishiguro quindi cominciamoci a chiedere se veramente la fantascienza è un genere di serie B o siamo noi che non vogliamo accettare il fatto che forse non siamo proprio umani come ci piace dire allora lettori, questi erano i 5 libri che più mi hanno colpito nei primi 6 mesi del 2022 fatemi sapere giù nei commenti se avete letto qualcuno dei libri che vi ho mostrato quali sono i vostri 5 libri preferiti arrivati a questo punto dell'anno e se magari avete idea di leggere qualcuno dei libri che vi ho mostrato perché magari non li avete letti, ve ne ho parlato e vi siete convinti a iniziarli bene lettori, il video per oggi termina qui vi lascio come sempre un grande bacio al prossimo video ciao ciao